Io penso che ci sia una sfida da raggiungere in questo 2022, che è quella di poter permettere a tutte le donne di coniugare la propria vita professionale a quella educativa dei figli. Dobbiamo sfruttare per questo tutte le risorse che abbiamo a disposizione, anche del PNRR, per mettere in piedi quelle misure che consentano davvero alle donne di poter crescere i propri figli senza che questo diventi un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi lavorativi. Spesso l'8 marzo è una data su cui i buoni propositi rimangono su carta, invece il mio auspicio è che grazie all'arrivo di queste risorse si possa davvero parlare anche di questi temi come un raggiungimento di un risultato importante per le pari opportunità.